Signore e signori, dal Teatro Ariston di Sanremo, la quattordicesima edizione di Juvil Music. Buonasera e ben ritrovati a Synab News. Ecco le ultime notizie. Andrea Carretti, in bocca al lupo Andrea. E allora buonasera, buonasera a tutti. Io sono convinto che un buon conduttore possa riuscire anche a far divertire, giocare e ridere, trattando anche temi importanti. Lo si chiama? Bluetooth. Bluetooth. Però è grigio. Penso che questa storia possa solo farle bene. Perché quello che sto per dirvi è strettamente confidenziale e tale deve rimanere. 250.000 persone hanno scaricato Allianz Now. Sai perché? Perché ieri si è allagato il bagno, ma con Allianz Now in meno di un'ora è arrivato l'idraulico. Problema risolto. Allianz Now è gratis. Grazie a tutti per oggi è tutto